Ciao, io sono Elie Calò, ben ritrovato al Giardino Sotto il Naso e oggi ci troviamo qui al Bar Mita e siamo pronti per una nuova ricetta. In questo episodio ti voglio parlare di una ricettina semplice, semplice come al solito, che si chiama Mirto Gaz. È una ricetta quasi 100% salentina in quanto abbiamo bisogno di ingredienti che sono facilmente reperibili ovviamente e abbiamo bisogno a livello di attrezzatura non c'è bisogno di granché, a parte un bicchiere, niente di che quindi non andremo a scegherare niente azione oggi. Abbiamo bisogno di Mirto, questo Mirto fatto in casa è un Mirto nero, quindi fatto con le bacche, specifico questa cosa qua perché c'è un'altra variante, ne parleremo poi più in là, quindi Mirto scuro, se non ce l'avete fatto in casa lo potete acquistare, gassosa, qui utilizziamo una gassosa insomma che producono qui in zona, quindi in Salento e della vodka, un pochino di succo di limone fresco, niente di speciale, quindi è una ricetta appunto facilissima da preparare e anche molto veloce, quindi il tempo che, se dovessero venire all'improvviso dei vostri amici a suonarvi a casa, insomma non li aspettavate, potete preparare questo, anche può essere un buon aperitivo, nel frattempo che loro suonano il citofono e fanno due rampe di scale, voi l'avete già preparato, quindi li potete accogliere tranquillamente, ma procediamo, quindi di che cosa abbiamo bisogno, bicchiere ho già messo del ghiaccio, devo semplicemente togliere l'acqua del ghiaccio che si è sciolto e andremo a mettere 3 cl di liquore di Mirto, tra le varie cose se vuoi sapere come si prepara il liquore al Mirto, ho fatto una ricettina e la puoi trovare qui, troverai il link qui sopra, poi avremo bisogno di vodka, una vodka neutra ragazzi, io uso questa qui ma potreste utilizzarne, insomma l'importante è di essere una vodka neutra e ne usiamo 2 cl per un totale di 5 cl di alcol, io difficilmente utilizzo più di 5 cl, 5 massimo 6 cl perché i drink devono essere diciamo leggeri e beverini insomma ecco, 1 cl di succo di limone spremuto fresco, poi se a voi piacciono invece dei drink un po' più forti o un po' meno forti basta aggiungere o mettere più o meno alcol, questa è la vostra discrezione, andiamo ad aggiungere un pochino di gassoso in questo caso e siamo pronti, una giratina e andremo a decorare con una decorazione anche qui molto semplice, io ho sfruttato il limone che ho spremuto, quindi la mezza, il mezzo limone spremuto, è diventato una sorta di piattino e va poggiato qui, una fettina di quindi di limone, fiore di calendula e una fogliolina di menta, tutto qua, ecco a voi il MIRTO GAZE quindi se ti piacciono queste ricette ovviamente ti consiglio di mettere un bel pollice in su, condividere con i tuoi amici e magari potresti salvarli la serata con questa ricettina semplice semplice, condividi con i tuoi amici, commenta e mi aspetta un pollice in su, noi ci vediamo presto, continuo a seguire ovviamente i canali instagram, facebook e youtube il giardino sotto il naso e noi ci vediamo presto, anzi prestissimo, alla prossima, ciao!